Per l'agricoltura in Valdichiana e Casentino la situazione è davvero drammatica. Le bombe d'acqua dello scorso weekend in molte zone hanno massacrato i campi, i cereali, i frutteti, gli ortaggi e i vigneti. E allarme anche in Valtiberina dove si segnalano danni per il tabacco. Col Diretti lancia l'allarme. Il maltempo di questi mesi sta mettendo in ginocchio l'agricoltura retina e non solo. In Valdichiana il problema più grave è quello dei cereali, come spiega l'agricoltore Paolo Del Buono di Foiano. Abbiamo avuto, racconta, danni gravissimi. Lavoriamo tutti a ritmo molto ridotto e non è solo una conseguenza dell'ultima bomba d'acqua, ma è da fine aprile che a volte non è possibile neanche lavorare la terra e abbiamo perso interi raccolti. A Lucignano l'ultima grandina ha rovinato due ettari di patate e certe culture non saranno piantate come le zucchine. Da qui l'impegno di Col Diretti a chiedere lo stato di calamità. Purtroppo non c'è zona della nostra regione in cui la malattia dovuta agli eccessi di pioggia sta creando il marciuma all'interno di questi cereali, in particolare del grano e dell'orzo. Siamo fortemente preoccupati. È un'annata veramente triste perché le variazioni climatiche sono pesanti e soprattutto non c'è una tregua in termini di umidità e pioggia. Il tabacco soprattutto nelle zone della Valtiberina è sott'acqua, quindi occorrerà probabilmente in alcuni casi ripiantare con costi elevatissimi e ci sono anche tutte quelle orticole primaverili che ovviamente sono presenti non solo nelle zone dell'Aretino, ma anche nelle zone del Fiorentino, della Maremma e oltre del Senese, che di fatto con le piogge eccessive sono andate sott'acqua e quindi hanno malattie e hanno dei marciumi.